Domani ad Avellino si celebra il 2 giugno, Festa della Repubblica. La manifestazione che sarà preceduta alle ore 10 dalla deposizione della Corona presso il Monumento ai Caduti prevede alle 10.20 in Piazza Libertà lo schieramento del reparto di formazione degli onori, la cerimonia dell'alza bandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica a cui si accompagneranno i contributi di alcuni studenti, nonché del Conservatorio Domenico Cimarosa. Seguirà lo srotolamento del grande tricolore sulla facciata di Palazzo di Governo ad opera dei Vigili del Fuoco e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. L'evento proseguirà all'interno del chiostro della Prefettura con la consegna, prevista per le ore 11, delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Lungo corso Vittorio Emanuele verrà restita una mostra statica a cura dell'esercito, delle forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco. Questo l'elenco degli insigneti. Comune di Avellino, commendatore Giampiero Boscaino, ufficiale Angelo Amodeo, ufficiale Angelo Perrone, cavaliere Carmine De Vito, Domenico Di Modugno, Silvano Romeo, Stefano Sorvino. Per il comune di Forino, cavaliere Salvatore Napolitano. Per il comune di Mercogliano, ufficiale Nicola Vicale, cavaliere Giovanni Franco Gallo. Comune di Monteforte Irpino, cavaliere Domenico Cerullo, Ernesto De Falco. Comune Montefredane, cavaliere Antonio Grossi, comune di Montoro, cavaliere Gennaro Ragusa. Comune di Rocca Bascerana, cavaliere Giovanni Viscione, Sant'Angelo dei Lombardi, ufficiale Giampio Minieri.